dove siamo? siamo a Saint-Tropez e noi ovviamente a Saint-Tropez mangiamo greco un ristorante esclusivo comunque esclusivo perché la D'Urso l'ha prenotato tutto tutto lei non voleva persone intorno eh niente esatto è anche il dj personale tu hai capito cosa c'è qua dentro? sì ho capito questo è l'anzana primo ingresso nell'altra nazione è fatta stiamo entrando in ma no ma 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 siamo ancora in Liguria ma stiamo entrando in Francia in Francia in Francia in Francia in Francia in Francia perché ho Francia o Spagna perché se mangia grazie vabbè vabbè va Barbara D'Urso facci sognare anzi facci viaggiare e voi state collegati per sentire le novità sul viaggio in Francia con famiglia e amici grazie a tutti grazie a tutti